Il conflitto libico potrebbe aprire scenari preoccupanti per il Mediterraneo, soprattutto in termini di nuove ondate di profughi. Napoli è pronta a questa emergenza? Napoli è città sempre pronta a tutte le emergenze. Noi siamo in prima linea ogni giorno, ma non abbiamo all'orizzonte in questo momento nessuna situazione emergenziale. Quello che invece preoccupa è il fallimento totale ancora una volta dell'Occidente, che in modo assolutamente illegittimo e in violazione della Costituzione dichiarò guerra alla Libia qualche anno fa. Con una grande propaganda politico-mediatica ci dissero che eliminando Gheddafi si portava la democrazia in Libia. Io non sono mai stato ovviamente, ma credo quasi nessuno, sostenitore di Gheddafi, ma quello che contesto è questo Occidente che ancora nei tempi nostri pensa di esportare la democrazia. Sotto gli occhi di tutti che cos'è la Libia. Libia è completamente fuori controllo. E' una lotta tra bande, governi che non si riconoscono a vicenda, lager in cui anche con le complicità del governo italiano vengono trattenuti migranti, torturati, uccisi, seviziati. E questo è il porto sicuro di cui parla Salvini. Quindi c'è un fallimento totale. E spiace che in questo fallimento c'è stata all'epoca l'Italia con altri governi, oggi in prima linea il governo Salvini di Maio. Quindi Napoli sicuramente contribuirà a costruire nel presente e nel futuro un altro Mediterraneo. Un Mediterraneo di pace, di contaminazioni tra popoli e culturali, di ponti di umanità e di solidarietà. E la potenza di Napoli in questo senso si avverte in tutte le città del Mediterraneo. Con chiunque mio collega sindaco dei porti del Mediterraneo e dei paesi del Mediterraneo mi sono interfacciato anche recentemente. C'è una grandissima considerazione del ruolo che Napoli sta svolgendo in controtendenza rispetto al clima d'odio, di rancore e di caccia allo straniero che questo governo sta mettendo in atto.